Micica e la Gymnastics Club continuano a mietere successi. Questa volta parliamo però della Serie D, la gara è andata bene, vice campioni regionali. Ottimo direi, perché siamo strafelici, stiamo festeggiando per questa è la seconda prova. La prima l'abbiamo fatto mesi fa e in questa seconda prova abbiamo alzato il numero del punteggio, quindi significa che nel frattempo abbiamo lavorato in maniera ancora più incisiva e a confronto con le 26 squadre di tutta la Sicilia siamo saliti sul secondo gradino del podio. La differenza tra noi e la prima classificata è stata di 0 a 450, significa meno di mezzo punto, quasi per capirci uno squilibrio di una testa o di una mano. Adesso avete ottenuto però il pass per le nazionali, dove si svolgeranno, quando e quanti atleti saranno impegnati? Ricordiamo intanto che le atleti sono state allenate da Esther Greco e Luigi Di Tavi che già hanno messo mani ai nuovi allenamenti per la finale nazionale che si farà a Pesaro il prossimo giugno. Quanti atleti parteciperanno? Sono quattro ginnaste categoria sessione femminile.